Salve, sono Fabio Ferrari, un allenatore di rugby. Volevo presentarvi questo presidio utile sia nell'apprendimento che nel gioco del touch rugby. Il touch rugby, voi sapete, è un gioco che non prevede il placaggio tra le sue regole. In particolare, si può essere soltanto toccati in qualsiasi parte del corpo. Questo presidio che ho inventato può essere utile per risolvere tutti i problemi che comunque ha il touch rugby, cioè l'incertezza del tocco e il tocco tecnicamente non ineccepibile dal punto di vista del movimento. Ma vediamo come funziona nel particolare. Il dispositivo è elettronico ed è situato al centro. Può essere ridotto fino a un quarto delle sue dimensioni, quindi questo è soltanto un prototipo. E da due parti conduttrici, posti in questo caso sui fianchi del pantaloncino stesso. Il funzionamento avviene toccando contemporaneamente con una certa pressione entrambi le bande del calzoncino. In questo caso il dispositivo si illumina e si allarma per tre secondi. Tre secondi che sono il tempo necessario per il riavvio rapido del gioco. Sfiorandolo soltanto non funziona e quindi bisogna dare una certa pressione e solo con entrambe le mani su entrambe le parti del calzoncino. Ma vediamo adesso come funziona dinamicamente con un esempio di gioco. Alla prossima! Alla prossima! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti